Ministro, come giudica l'ultima minaccia di Mosca e in inverno l'Italia soffrirà? Si sente colpito personalmente da questa minaccia? Ma no, guardi, ho avuto modo di commentare ieri a freddo, a parte un po' il nervosismo iniziale. È un atteggiamento un po' culturalmente totalitario. Loro pensano che gli stati prendano ordine da altri stati. Noi siamo una grande democrazia in un'Europa, che è un cluster di democrazie. Stiamo lavorando per garantire l'indipendenza energetica. D'altro canto la guerra l'hanno creata loro, quindi direi che le polemiche si devono fermare qui. Ecco, Ministro, anche perché la polemica risiede nel fatto che l'hanno accusata di aver in qualche modo dovuto gestire questo piano per contenere i consumi, imposto dall'Unione Europea sotto la regia di Washington. È un'accusa di quelle toste, no, Ministro? È un'accusa di chi pensa che ci siano gli stati che comandano e quelli che seguono. È la loro cultura, non è la nostra. Diciamo che io invece le do un'altra lettura. L'Italia si è mossa con grandissimo anticipo. Noi abbiamo diversificato le nostre fonti di gas e come credo ormai sappiano tutti abbiamo ridotto sostanzialmente la nostra dipendenza dal gas russo e continuiamo a ridurla nei prossimi mesi con i rigassificatori, con tutte le operazioni che stiamo facendo. Probabilmente questo non è piaciuto molto ai russi, no, perché ci ha reso, diciamo, un pochino più indipendenti rispetto ad altri, anzi molto più indipendenti rispetto ad altri paesi europei. Dopodiché il risparmio, quello serve comunque, a parte che risparmiare energia va sempre bene anche dal punto di vista ambientale. Poi è chiaro che in un'economia di guerra come quella che abbiamo adesso, non è un'economia di mercato la nostra, ora c'è una guerra alle porte dell'Europa, uno fa un piano che prevede diversi scenari ed eventualmente appunto distringere la cinghia sui consumi.